Sono Zibaldo, l'unica app completa di tanti servizi di pagamento. Scaricami, sono gratis. Zibaldo, come me non c'è nessuno. Crolla un'altra porzione di Casa Mataloni, il vecchio edificio che si trova in piena riserva naturale del Borsacchio e che rappresenta un vero e proprio pericolo per chi si trova a passeggiare da quelle parti. Le mareggiate invernali avevano ulteriormente minato la stabilità del manufatto realizzato in due epoche diverse. A cedere è stata la parte di più recente sistemazione e il resto rimane in piedi perché circondato da impalcature la cui stabilità è assai precaria. Marco Borgatti, direttore delle guide del Borsacchio, conosce molto bene la situazione del rudere. Purtroppo è quella che molti di noi chiamano la Casa Verde, Casa Mataloni, che ormai era una casa di campagna ma per via dell'erosione costiera ormai viene lambita dal mare e durante i mesi invernali, anche primaverili, viene proprio cinta dal mare. Ormai è un passaggio obbligato perché con l'erosione costiera bisogna per forza passare lì sotto. La casa è praticamente interamente crollata, le pareti sono appese a delle impalcature che non poggiano più a terra e è sicuramente un elemento di pericolo. Ci sono delle ordinanze di messa in sicurezza, questo è vero, però non ci sono stati passi ulteriori. Probabilmente è il momento di rimuoverle. La vostra idea in passato era quella di utilizzare proprio quell'edificio, quell'immobile che risale ormai a decenni fa come sede delle guide del Borsacchio. Non è stato possibile, però voi rivendicate una sede. Sì, noi attendiamo ancora dopo quasi ormai tre anni, da luglio scorso, perché ormai nel luglio 2020 è stata affidata la sede alle guide del Borsacchio, però diciamo ancora riusciamo ad entrare da luglio 2020 nella sede che ci è stata assegnata. Che cosa rappresenta per voi la riserva del Borsacchio oggi? Per noi la riserva del Borsacchio rappresenta sostanzialmente un nuovo modo di vivere la città e di comprendere come attraverso la sostenibilità si può sia tutelare l'ambiente che valorizzare un territorio. Di certo il futuro passerà dalla riserva Borsacchio per il turismo di Roseto.